Sindomi da immunodeficienza Si definiscono sindomi da immunodeficienza quegli stati morbosi, caratterizzati prevalentemente da frequenti e grandi infezioni, dovute all'incapacità dell'organismo di reagire alla noxapatosida, mettendo in atto le difese immunitarie specifiche e aspecifiche. L'apparato scheletrico può essere interessato in alcune di queste condizioni, in particolare nella sindrome di Schwachmann, nella sindrome di Devis e nella sindrome di Walderstern. Le prime due, cioè la sindrome di Schwachmann, displasia metapesaria, insufficienza pancreatica, neutropenia, e la sindrome di Devis, displasia metapesaria, timolinfopenia, ipo-agamma-globulinemia, sono descritte nel capitolo delle osteodisplasia genotipiche. Grazie. Grazie. Grazie.